Ragazzi del fuoco Questo è il paio del Campanossa Allora Con i poteri conferindemi dal Comitato Pagno di Capatosta Assegno il palione al primo campione d'oro della storia di Mola Assegno il palione al capitano Milena Brunetti della Contrada del Fuoco Assegno il palione al capitano 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 Assegno il palione al capitano